buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di atv per la nostra vostra rassegna stampa 5 di dicembre con lo sciopero del personale sanitario con tanti disagi che sono previsti per tutta italia che vede il fermarsi dei camici bianchi cominciamo da qui oggi lo sciopero dei medici per i tagli alle pensioni e gli stipendi non adeguati un milione e mezzo di prestazioni a rischio problemi previsti anche sulle marche telefonate delle due per sicurezza telefonate al medico che avete prenotato alla visita che avete previsto per avere la contezza che sia o meno fruibile tale servizio l'altra notizia del giorno certamente è la pioggia che arriva e cade copiosa sulle marche in alcune zone terminerà questa precipitazione questa perturbazione attorno alle 13 penso per esempio al pesarese all'anconetano al maceratese in altre zone come ad ascoli e provincia e a fermo e provincia si dovrebbe protrarre fino attorno alle 19 più in provincia di ascoli perché anche in provincia di fermo come potete vedere dallo strumento utile in tal senso del meteo.it anche in provincia di fermo dà lo stop alle precipitazioni attorno alle 13 occhio che si è inserito nel contesto del meteo anche il termine quota neve quello che insomma d'inverno abitualmente andiamo a sviscerare quota neve in provincia di fermo a 1500 metri sul livello del mare quindi qualche fiocchetto laddove lo deve fare potrebbe farlo tra poco il punto sul nostro sito etv marche.it ma partirei ufficialmente dai giornali marchigiani dalle edizioni del corriere e comincerei dal maceratese con i lavori in via roma a partire dal 2024 avanza dunque l'iter e buona notizia per il nuovo sottopasso atteso da anni confermo dice l'assessore marchiori siamo nei tempi la cronaca ahimè in taglio centrale travolto dal bobcat guidato dallo zio purtroppo incidente mortale sul lavoro avvisso muore un 45enne che tra l'altro era stato colpito nel 2016 dal terremoto ancora notizie di cronaca dal maceratese qui siamo a civita nova un giovane che si fa spedire 49 chili di marijuana con il corriere arrivano però pure le fiamme gialle cioè la guardia di finanza scatta la denuncia la droga è stata sequestrata pronta con l'edizione del corriere anconetano la nostra rassegna stampa e il titolo dei locali sold out per natale ieri si parlava già di capodanno la città dice il giornale è più attrattiva gli eventi portano gente in centro e nei ristoranti fioccano le prenotazioni lo scorso anno questo il commento degli operatori c'erano meno richieste anzi non c'erano richieste questo il contributo riportato dal giornale saverio intanto ci siete voi perché il core business l'ingrediente principale del nostro buongiorno della nostra rassegna stampa è il fatto che il pubblico è presente partecipe lida buongiorno lida lombardi buongiorno elide marcolini buongiorno carlo tamburini buongiorno l'amico saverio marinelli buongiorno un abbraccio speciale mi permetto di ripeterlo a questo giovanotto matteo che oggi compie 12 anni mi pare questa foto risalire o all'anno scorso o a due anni fa purtroppo zio mauri inizia a perdere qualche colpo però tu certamente invece vai forte il futuro è tuo complimenti anche per questo bel sorriso 12 anni un altro messaggio e poi torno ai giornali buongiorno a tutti voi da sirio da ancona pioggerellina purtroppo all'ospedale di torrette la situazione è molto brutta come si vede dalle foto i cantieri non finiscono mai in italia si sa il giorno dell'inizio ma mai quello della fine sostegno al personale medico che durante la pandemia è morto e non è stata riconosciuta ad oggi la morte professionale grazie mille al personale sanitario che chiamavamo eroi ma dice il nostro amico sirio un po ci siamo dimenticati eccola una foto dei cantieri sì che ci sono nella zona della città della salute che torrette torno ai giornali ricordando già che c'è lo sciopero della personale sanitario oggi medici infermieri oltre al taglio alto il taglio centrale è dedicato al task force contro chi imbratta task force vuol dire insomma una squadra contro chi imbratta queste scritte brutte e allora oltre alla deterrenza alle forze dell'ordine alle telecamere un incentivo questa l'idea del comune ai privati per pulire le facciate delle palazzine le palazzine sono private quindi ripulirle sta o starebbe per i palazzi privati ai proprietari certo è una spesa importante e allora il comune dice se pulite vi aiutiamo la rom cronaca la rom fa soldi con la droga e prende sussidi dallo stato questa notizia vi ha fatto molto arrabbiare la spieghiamo era agli arresti domiciliari ma ha ottenuto il reddito di cittadinanza una condanna per lei però questo il punto che vi ha fatto un pochettino più scrivere la condanna detentiva cioè il carcere è stato sostituito grazie alla legge cartabia dillo che è stata la legge cartabia io ho letto tutto l'ho già letto lo recupero certamente perché non dovrei dirlo lo spiega anche il giornale grazie alla riforma cartabia è riuscita a farsi convertire la pena detentiva in lavori di pubblica utilità per 16 mesi dovrà fare volontariato dopo che benché fosse ai domiciliari per spaccio aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza ma è stata scoperta vuole aiuti e minaccia il sindaco brucio tutto tra poco vi raccontiamo dove è successo da macerata ad ancona da ancona a pesaro in primo piano case popolari nell'oratorio il recupero del complesso delle zoccolette 13 alloggi spazi sociosanitari ma anche per il co-working cosa vuol dire co-working alcune aziende piccole o medie grandi ma comunque innovative che si mettono insieme in uno stesso spazio comune in uno stesso capannone dividendo le spese di luce acqua gas l'affitto coin condividendo anche idee pensieri progetti che possano coincidere dal punto di vista della progettualità si tratta di una delle ultime opere dell'architetto lazzarini case popolari nell'oratorio questa l'idea inaugurazione dopo i danni dell'alluvione nuovo depuratore a cantiano eccolo il taglio del nastro insulti per gli spari al pitbull chiesta una condanna per l'assessore belloni una condanna di sei anni il cacciatore che incautamente involontariamente pensando forse che fosse un animale da cacciagione aveva sparato a questo cane si è sentito offeso nell'onore nel decoro dalle parole sui social di belloni dell'assessore belloni e ha chiesto una una risarcimento diciamo così riapriamo la contessa promessa mantenuta siamo a fano amici amici l'annuncio per il 18 dicembre del dirigente anas regione decisiva il plauso delle categorie la strada contessa riaprirà prima delle festività natalizie penso che per chi ci segue da quelle parti sia una notizia tanto attesa e tanto importante con ogni probabilità c'è già la data lunedì 18 dicembre riapre la contessa chi sei contessa tu non sei più la stessa per salutare anche il buon enrico ruggeri russo chiama cornacchini sulla panchina del fano vi ho già mostrato c'era chi non ci credeva ma io c'ho anche la foto ragazzi non è che diciamo cose in maniera avventata alma eccola là c'è cornacchini per l'operazione salvezza c'è pure la foto classica con la maglietta eccetera quindi è oramai presso che ufficiale vera buongiorno carlo buongiorno elide buongiorno lida buongiorno buongiorno anche a chi ci manda messaggi commenti anche legati a temi caldi come quello della sanità buongiorno e tv da acqua santa terme nuvoloso 5 gradi ci scrive l'amico angelo che ci manda anche una foto da brividi come dicevo poc'anzi una foto quasi sensoriale perché si percepisce il freddino che arriva dalle montagne marchigiane innevate questa è la zona di acqua santa terme una zona ahimè colpita dal dramma del terremoto una zona bellissima che il cuore delle marche quest'anno non ho fatto il vaccino e ho preso il covid l'anno prossimo non sarà così farò il vaccino anche se stanno dicendo che altere il nostro dna ci scrive luciana ps sai che stai proprio bene con il basco grazie non era un basco era un cappelletto all'inglese anzi all'irlandese ma comunque grazie luciana sul tema del vaccino anti covid io non torno nelle polemiche però quando ci siano situazioni così dolorose come una donna che perde la vita e c'è poi chi specula sulla sua morte senza sapere se davvero questa donna che ha perso la vita e c'è una famiglia che la piange si fosse o meno vaccinata e c'è chi scrive sui social di questo e poi la famiglia è costretta a smentire dicendo no stefania non si era vaccinata insomma cerchiamo non chi non chiedo tanto ma chiedo solo minimamente di aspettare di emettere giudizi prima di avere un pochettino più di informazioni intanto c'è da piangere una donna di soli 47 anni che stava bene non aveva problemi non si era vaccinata contro il covid 19 eppure è morta così dopo un intervento di rinoplastica vi porto ora a un servizio della nostra redazione legata alla disabilità sapete che su questo tema siamo sempre super sensibili inclusione e aiuto la giornata della disabilità non deve essere un giorno l'anno deve essere ogni giorno e allora noi abbiamo seguito questo appuntamento alla lega del filo d'oro questa giornata è tutti i giorni nel senso che le persone con disabilità hanno bisogno tutti i giorni di sostegno di essere inclusi nella società tra cui anche ad esempio per il lavoro per l'inclusione scolastica insomma ci sono tanti temi che ogni giorno le persone affrontano anche il discorso di superare tutte le barriere sia architettoniche ma anche purtroppo culturali che molto spesso la persona con disabilità è vive tutti i giorni delle difficoltà che naturalmente non aiuta ad essere inclusa è inclusione la parola d'ordine per le persone con disabilità nella giornata internazionale che ne difende i diritti il bisogno di inclusione sociale e culturale è ancora più forte non solo stiamo parlando di assistenza ma anche di formazione continua stiamo parlando di caregiver stiamo parlando di livelli familiari di integrazione stiamo parlando sostanzialmente di ascensori sociali che possano aiutare le persone con disabilità anche a praticare pratiche sportive la regione ha fatto degli investimenti molto significativi e importanti l'ultimo con la legge di bilancio aumentando di un milione di euro il finanziamento per vita indipendente il consiglio delle marche ha organizzato presso la lega del filodoro di osimo le celebrazioni con in collegamento da remoto la ministra per la disabilità alessandra locatelli questo l'appuntamento che abbiamo seguito sperando che ogni giorno sia il giorno della disabilità che ogni giorno questi temi siano al centro dell'attenzione così come è al centro dell'attenzione questa vicenda del gioielliere che uccise due ladri un terzo riuscì a scappare poi venne catturato perché perché c'è per lui una condanna a 17 anni lo stato non fa nulla per difendere un normale cittadino questo è il punto del collega nicola porro che cosa ne pensate rispetto a questa sentenza che ha visto il gioielliere condannato a 17 anni erano entrati nella sua gioielleria avevano tentato il furto armi alla mano poi però il tentativo di fuga e in quel momento il gioielliere che esce dalla struttura e spara in strada quindi rischiando tra l'altro su questo molti avevano polemizzato rischiando anche di colpire gente inerme che era a passeggio semplicemente a passeggio in quel momento la notizia della condanna arrivata ieri pressing al fermano ci spostiamo pressing sui lavori per la 14 gli imprenditori rilanciano anche sulla mare monti del futuro lacune però per i maxi progetti questo per il fermano dopo la pista anche la pizza dal chef inaugurazione in centro a porto sant'elpidio degnamente illuminata per il natale e poi la storia di questo giovane che si fa spedire 49 chili di marijuana non è la storia della droga dentro la pentola quella è un'altra notizia che tra poco vi racconteremo meglio con il corriere ha chiesto ad un ieri di fargli arrivare della droga arrivano però anche le fiamme gialle vado rapidissimo ad ascoli e san benedetto per completare il quadro dell'informazione ponte a monticelli si parte i lavori dureranno quattro anni e costeranno oltre 7 milioni di euro è prevista la realizzazione anche di due rotatorie la classifica della qualità della vita ascoli scala 15 posizioni ancona la provincia migliore per qualità della vita nella regione marche al ventiquattresimo posto nazionale ma vogliamo vedere come è andata vogliamo sentire come è andata a livello marchigiano ecco il servizio nelle marche ancona supera seppure di un soffio pesaro orbino nella classifica 2023 della qualità della vita stilata dal sole 24 ore il capoluogo di regione compie un salto di quattro posizioni e si attesta al ventiquattresimo posto pesaro orbino rimane invece al venticinquesimo tutte in rialzo le posizioni delle altre tre province ascoli piceno ventisettesima macerata trentasettesima fermo cinquantesima dieci gli indici sintetici inclusi nell'indagine che aggregano più parametri qualità della vita di giovani bambini anziani qualità della vita delle donne ecosistema urbano indice della criminalità indice di sportività indice del clima high city rank sulle città digitali composto da amministrazioni digitali e città aperte tra le province ad ancora la migliore performance riguarda psichiatri e psicologia clinica professionisti attivi ogni mille abitanti il dato peggiore è il numero di bar ogni mille abitanti forte passo in avanti nella voce ricchezza e consumi pesaro orbino brilla per la percentuale di laureati e altri titoli tra persone di età tra i 25 e 39 anni ma pecca nell'imprenditoria giovanile in provincia gli indici in aumento per ricchezza e consumi cultura e tempo libero ad ascoli piceno la miglior performance arriva dalla quota di export sul pil mentre la peggiore su infortuni mortali e inabilità permanente sul lavoro ogni 10 mila occupati in forte progresso sul fronte affari e lavoro macerata brilla invece per illuminazione pubblica sostenibile in particolare la percentuale di punti luce a led sul totale mentre negativo il dato dell'anomalia in gradi delle temperature rispetto al decennio 2001 2011 la provincia in ogni caso compie passi in avanti per affare lavoro ricchezza e consumi cultura e tempo libero anche affermo un punto di forza è l'illuminazione pubblica e sostenibile mentre il dato peggiore è il numero di cessazioni ogni 10 imprese 5,44 a fronte della media del 4,49 la provincia è terza per gli indici ambienti e servizi ed è migliorata per affari e lavoro ricchezza e consumi e questo in un fazzoletto di secondi tutta la regione marche tutte le province con i dati migliori e peggiori nel servizio del collega andrea fiano ancona supera pesaro dal carlino di pesaro il titolo la beffa che molti hanno gradito come titolo ve lo vado a recuperare tra poco buongiorno stamattina piogge e freddo a camerano saluti da me e da rocco che bello questo albero di natale sotto il quale c'è il regalo più bello che ci sia cioè l'affetto di un amico a quattro zampe buongiorno anche a rocco che ci guarda in cannesco il cane ci guarda in cannesco vabbè battuta sulla quale soprassediamo per tornare velocissimamente al carriere manca il corlino tra poco andremo sul carlino intanto c'è il corriere nascite a san benedetto questa un attimo la sottolineo nascite dimezzate dal 2019 ad oggi sulla costa picena cioè nel 2019 si faceva il doppio dei figli che si fanno oggi di mezzo c'è certamente anche la piaga della pandemia ma è un a san benedetto che deve far riflettere quattro chili di coca nel pacco con le pentole una batteria di pentole la droga da spacciare era nascosta dentro il finto sottofondo di una di queste pentole un'operazione della guardia di finanza incredibile una donna è stata arrestata una 47enne domiciliata a cupra marittima si parla anche di sport se abbiamo visto a fano l'alma juventus fano puntare su cornacchini ex tecnico biancorosso ad ascoli curva a prezzi popolari per lo spezia per cercare di trasmettere la carica ai ragazzi della dell'ascoli vado ora alle edizioni del carlino e parto dall'anconetano dalla provincia di ancona passando per il meteo perché in molti chiedono se poi la pioggia durerà anche domani se durerà anche giustamente per l'otto di dicembre è una giornata di festa oggi piove senza soluzione di continuità vado a vedere con voi mercoledì non lo so onestamente non me lo sono posto il dubbio allora domani mercoledì temperature che calano però non dovrebbe piovere minime sui tre gradi la quota neve non è indicata e quindi non dovrebbe esserci questo tipo di pensiero per la giornata di giovedì bellissima giornata ma temperatura ancora più rigide giovedì 7 un grado la minima sul maceratese per intenderci eccolo qua l'otto dicembre con temperature da battere i denti 0 gradi in provincia di fermo 0 gradi in provincia di macerata ma senza precipitazioni degne di note massime che torneranno a solleticare i 10 gradi si ferma l'italia dei camici bianchi torniamo un attimo a due notizie di livello nazionale oggi lo sciopero dei medici per i tagli alle pensioni e per gli stipendi non adeguati un milione e mezzo di prestazioni sanitarie a rischio in tutta italia non nelle marche un milione e mezzo di prestazioni sanitarie a rischio giustamente c'è questa richiesta di specifica a livello regionale certamente tante possibilità di analisi di visite rischiano di saltare per cui telefonate rispetto a chi mi chiede quella visita quel medico se fa o non fa sciopero ragazzi non lo posso sapere io anche perché è una questione personale intima e privata di un medico o di un infermiere decidere se aderire o meno allo sciopero telefonate fatevi sentire dal vostro medico o dalla struttura pubblico privata che abbia deciso eventualmente di aderire allo sciopero vi diranno se ci sarà o non ci sarà quella visita che avete prenotato avevo prenotato mesi fa che beffa capisco con queste lungaggini con queste liste d'attesa immaginarsi di essere oggi finalmente in visita e c'è proprio oggi lo sciopero questa è capisco lo sfogo una sfiga tremenda l'altra notizia del giorno a livello nazionale viene da padova ed è l'ultimo saluto a giulia cecchettin padova che si riempe per il giorno dell'addio a giulia il messaggio del papà Turetta intanto potrà seguire i funerali in tv ha chiesto di poter vedere i funerali dell'ex fidanzata e quindi lo potrà fare in 10.000 con loro attese centinaia e centinaia di persone che simbolicamente saranno accanto ad Elena la sorella e a papà Gino molti mi hanno anche chiesto ma perché tutta questa esposizione mediatica rispetto ad altre vittime ad altre morti ci sono degli elementi la storia della fuga il fatto che questa ragazza fosse così giovane il fatto che avesse perso l'anno scorso la mamma le parole forti della sorella insomma sono tutti elementi che rendono questa notizia così fortemente raccontata non è di oggi questa immagine ma ve la voglio comunque dedicare ce l'aveva inviata da camerano un nostro teleradio ascoltatore o teleradio ascoltatrice chiedovenia buongiorno al gioielliere dovrebbero dargli una medaglia non 17 anni a risarcire i delinquenti è proprio vero che viviamo in un mondo alla rovescia grazie per l'opinione noi non commentiamo le sentenze molti messaggi però sono legati a questo episodio del gioielliere che sparò e uccise due malviventi perché tecnicamente perché è arrivata la condanna per lui ma perché è stato condannato perché la difesa è legittima fino al momento nel quale tu sei a rischio questa è la regola non me la invento io lo hanno deciso le istituzioni lo ha deciso il legislatore nel momento in cui questi qua però escono dal negozio e scappano e il gioielliere esce dal negozio li insegue e spara a quel punto non sussiste più secondo la sentenza il principio della legittima difesa per questo è arrivata la condanna ma sapete che noi le sentenze non le commentiamo cerchiamo di spiegarne in termini tecnici le motivazioni margareta buongiorno giordano buongiorno michela buongiorno paolo palide angela buongiorno dalla perla sirolo ci hanno scritto anche mandato delle foto bellissime da sirolo vi porto ai giornali il carlino per ascoli e san benedetto del tronto intercettati 4 kg di coca spediti ad una donna di cupra che è stata arrestata dalla finanza nel titolo del carlino non emerge il dettaglio più curioso e particolare cioè come sono stati spediti dentro una pentola imbottita di droga trovate il video sul nostro sito i dati confermano in provincia di ascoli si vive bene il sole 24 ore premia la provincia di ascoli che scala 15 posizioni ed è al 27esimo posto in italia un pozzo da paura e invece la news con tanto di foto di primo piano del carlino viene da san benedetto questa storia io mi sono permesso di raccontarla più nel dettaglio attraverso non il carlino ma il corriere perché il corriere da un elemento aggiuntivo era al telefono quando è caduto dentro un pozzo profondo 7 metri infortunio sul lavoro per miracolo per fortuna per provvidenza decidete voi quale termine metterci questo operaio di 37 anni che è caduto e volato giù da 7 metri 7 metri è un palazzo ragazzi è salvato a san benedetto con tecniche speleo l'uomo è fuori pericolo di vita nonostante le fratture riportate forse una distrazione mentre era al telefono la tragedia di stefania morta dopo l'intervento ora l'autopsia eppure stava bene era senza problemi e a seguito anche delle polemiche sui social emerse la famiglia ha tenuto a specificare e ribadire che la ragazza non aveva fatto il vaccino anti covid basta falsità pensate allo strazio dei familiari che hanno dovuto dare questo dettaglio che poteva e doveva rimanere intime personale di questa donna che non c'è più in provincia di macerata purtroppo la cronaca travolto dal bobcat muore un operaio siamo a visso incidente fatale perde la vita davide gentili che aveva subito il dramma del terremoto era stato sfollato aveva 45 anni oltre al danno la beffa il mezzo era guidato dallo zio quindi una tragedia che devasta questa famiglia ieri santa barbara patrona dei vigili del fuoco boom di interventi in questi ultimi mesi per dissesti alluvioni e alberi pericolanti immaginatevelo per un secondo fare il vigile del fuoco nelle marche negli ultimi 7 8 10 anni non non c'è bisogno di aggiungere altro a macerata ci sono anche e provincia ci sono anche buone notizie il conto alla rovescia per Louis Vuitton prende forma il nuovo stabilimento di Civitanova mi devo fermare giusto in tempo per salutare buona giornata anche se oggi non è una grande giornata voglio ringraziarti per avermi concesso una foto domenica a falconare all'accensione dell'albero ma ci mancherebbe altri sono uno di voi anzi uno dei tanti tra cui ci siete voi state con noi sema tende infissi è a Castelfidardo assistenza riparazioni e vendita infissi in legno pvc o alluminio tapparelle e persiane porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno montaggio in giornata sema tende infissi per vivere il tuo giardino d'inverno progettazione di tende da sole pergole gazebo